Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla Fipili in direzione Firenze ci sono due chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina per incidente, rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni tra Montelupo e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!